bene buongiorno a tutti lezione numero 40 oggi parliamo di cammini minimi è un argomento che uno degli argomenti più importanti non solo di questo corso ma in generale della teoria dell'informazione quindi sono cose che possono chiedere in un colloquio cose che vi saranno sicuramente utili se il vostro ruolo e vostro lavoro sarà quello di risolvere dei problemi perché in questo corso noi diamo delle soluzioni algoritmiche per risolvere un gran numero di problemi e un gran numero di problemi si risolvono sicuramente tramite i grafi e tramite i cammini minimi dicevamo l'altra volta ovviamente applicazioni immediate di questo problema sono i navigatori satellitari in generale tutti i contesti in cui c'è una rete quindi una rete una rete di strade di città di paesi una rete di calcolatori o in altri problemi di ottimizzazione una rete formata da configurazioni quindi nel caso di rubic la configurazione del del cubo applicheremo questo problema anche per esempio alla risoluzione del pacman ovvero in quel caso la rete è formata dal labirinto del livello in cui vogliamo i fantasmini vogliamo che i fantasmini si muovano secondo percorsi ottimali per raggiungere pacman nel minor tempo possibile dicevamo l'ultima volta chiudendo la lezione di mercoledì che definiamo come cammino una sequenza di vertici e il costo di quel cammino come la somma dei pesi di ogni arco che si trova lungo quel cammino quindi ogni coppia di vertici in questo cammino ovviamente essendo un cammino è connessa da un arco ogni arco siamo in un grafo orientato perché non ha senso se no parlare di cammini minimi se i grafi non sono scusate pesato se i grafi non sono pesati pesati significa che gli archi hanno un costo associato quindi nel caso dei navigatori il costo è potrebbe essere il chilometraggio il tempo di percorrenza o il costo proprio del pedaggio autostradale nel caso di internet il costo potrebbe essere dovuto a fattori di congestionamento della rete quindi il tempo di nuovo diciamo di percorrenza di quella di quello snodo nel caso di rubic il costo potrebbe essere banalmente uno per beh no per arrivare da una configurazione ad un'altra magari ci sono un certo numero di mosse di rotazioni nel caso di rubic in quel caso il numero di rotazioni potrebbe essere il nostro costo quindi vabbè abbiamo un costo sui archi e il costo del cammino totale e la somma di questi costi noi siamo interessati ai cammini minimi quelli che indichiamo con star i greco star i greco sta per cammino perché queste lettere ragazzi perché questi sono ragionamenti che vengono dall'inglese quindi in inglese pi greco è pai e cammino è path quindi p quindi si sceglie una lettera greca che ha la stessa iniziale della cosa che stiamo indicando quindi questo sta per cammino in inglese pi quindi il peso del cammino minimo essendo minimo appunto sarà il più piccolo peso di tutti i cammini possibili quindi il cammino minimo è quello che ha costo minore o uguale a quello di altri cammini e dobbiamo importante prima di parlare di algoritmi dare delle proprietà dei cammini minimi perché queste proprietà ci fanno subito capire quando un problema ha una soluzione e quando invece non ce l'ha intanto una proprietà che sfrutteremo molto spesso è la proprietà di sottostruttura ottima che dice che ogni sottocammino quindi ogni porzione di un cammino minimo è anch'esso un cammino minimo perché questo si può dimostrare facilmente per assurdo supponiamo di stare in un grafo qualsivoglia complesso e supponiamo di aver già trovato un cammino minimo da u a v quindi quello che è in figura già l'abbiamo trovato è un cammino minimo ora consideriamo un qualunque sottocammino di questo cammino minimo per esempio consideriamo quello che va da x a y dove x in questo caso è il secondo nodo y è il penultimo ma potrebbero essere un qualunque un qualunque coppia di nodi all'interno di questo cammino minimo ora supponiamo che tra questa coppia di nodi esista un altro ipotetico cammino che sia più corto perché questo è la dimostrazione per assurdo è negare la tesi quindi la tesi dice che ogni sottocammino per esempio quello da x a y non è ottimo negare la tesi significa che non è ottimo non è minimo se non è minimo deve esistere un altro cammino che passerà da altri nodi adesso qua non sono ovviamente individuati perché non sappiamo quali sono che sarà più breve del cammino tra x a y già noto ma se esistesse se esistesse questo cammino più corto allora avremmo sbagliato tutto cioè il cammino minimo da u a v non poteva essere questo ma doveva passare dal nodo in cui ci siamo fermati dal nuovo cammino che abbiamo trovato essere più corto e arrivare poi al nodo di arrivo cioè la porzione che sta nel mezzo quella che abbiamo prima saltato con un altro cammino non sono l'abbiamo saltata ma dove doveva essere praticamente non è valida nel caso del cammino minimo da u a v quindi abbiamo negato praticamente l'ipotesi di partenza quindi è l'assurdo ok quindi è una proprietà che sfrutteremo perché è utile nella programmazione dinamica nella programmazione grevi sapere che una sottoparte della soluzione è anch'essa una soluzione e questo ci fa capire che insomma può essere utile per la programmazione dinamica come un giorno faremo quindi noto un cammino minimo qualunque porzione di quel cammino è anch'essa un sottocammino un cammino minimo ovviamente tra i nodi che coinvolge quindi dalla partenza alla destinazione che coinvolge quindi vabbè questa è una prima proprietà e la seconda proprietà è abbastanza problematica perché ci dice che se siamo in un grafo con cicli negativi cosa sono i cicli negativi sono dei cicli il cui il costo è negativo se il cammino da u a v contiene un ciclo di costo negativo quindi praticamente se siamo su grafi con un ciclo di costo negativo e stiamo calcolando un cammino minimo da u a v e incontriamo un nodo in cui si innesca un ciclo di costo negativo pensate un po non esiste nessun cammino minimo calcolabile perché non esiste perché se siamo interessati ai cammini di costo minimo e se siamo arrivati ad un nodo in cui si può innescare un ciclo di costo negativo allora siccome noi vogliamo minimizzare il costo del cammino totale saremmo tentati di girare in questo ciclo all'infinito perché girando ogni volta che facciamo un giro stiamo decrementando il costo del cammino globale da u a v quindi saremmo tentati di fare tanti giri infiniti giri per minimizzare appunto il costo del cammino totale il problema è che facendo così noi gireremo all'infinito qua dentro ora nella vita reale voi dite ma questo è un problema che nella vita reale non si pone perché non si pone perché se siamo in una in una in un contesto di navigatore satellitare di mappa beh intanto non esistono i costi negativi costi negativi negli archi sarebbe come dire che per andare da qui a roma impiega un tempo negativo cioè ci guadagno e quindi che significa che ho preso la macchina del tempo non la macchina quindi è evidente che ci sono dei contesti pratici in cui non si pone proprio questo problema quindi ci sono dei grafi in cui i costi saranno sempre positivi e in effetti questa è un'ipotesi che sfrutteremo anche nella rete internet comunque il costo per trasmettere un pacchetto attraverso la rete non potrà mai essere negativo se lo fosse significherebbe che anziché pagare io per attraversare quel canale e non so sto pagando il gestore della rete nazionale vengo pagato anziché pagare insomma non è la cosa che succede quindi sembrerebbe effettivamente che non esistano grafi con costi negativi e invece no e invece esistono vedremo un esempio probabilmente la prossima lezione o alla fine di questa se se ci riusciremo quindi per adesso fidatevi esistono grafi con costi negativi e siccome esistono grafi con costi negativi se i corsi lungo un ciclo hanno una somma negativa allora esisteranno anche ed esistono infatti grafi con cicli negativi quindi sui grafi con cicli negativi noi come facciamo a trovare un cammino minimo beh non esiste o meglio non esiste un cammino minimo definito come abbiamo definito prima perché potremmo noi andare all'infinito dentro questo ciclo ma se diciamo che cerchiamo cammini minimi semplici allora questo non è più un cammino minimo semplice perché perché i vertici devono essere distinti quindi non posso arrivare in questo nodo fare un ciclo ritornare in questo nodo e poi andarmene a v o fare altri cicli come a voler minimizzare ulteriormente perché in un ciclo in un cammino minimo semplice in un cammino semplice in generale i vertici devono apparire una e una sola volta quindi questo vertice non può apparire due volte quindi questo ciclo non lo possiamo fare quindi effettivamente esistono sono definiti in un grafo anche con cicli di costo negativo sono definiti cammini minimi però semplici pensate però aver introdotto questa piccola semplicissima apparentemente proprietà ovvero che se il grafo a cicli negativi non ci possiamo accontentare dei cammini ma dobbiamo dire che devono essere semplici aver solo introdotto questa parola chiave qui fa sì che il problema diventa intrattabile cioè mentre noi nelle slide che seguono avremo soluzioni per problemi di tipo grafi senza cicli di costo negativo quando i grafi hanno cicli negativi e vogliamo comunque trovare i cammini semplici il problema diventa intrattabile cioè np completo ovvero ha una complessità che ancora non è insomma una complessità superiore addirittura la complessità polinomiale sono problemi che in cui i problemi neppi completi sono problemi in cui testare una soluzione si fa ma trovare la soluzione è praticamente intrattabile cioè se anche riuscissimo e probabilmente si può in realtà trovare un algoritmo per risolvere il problema l'algoritmo avrebbe una complessità tale che in un grafo reale un grafo con migliaia di nodi o centinaia di migliaia di nodi una rete una rete non so quanto non una rete internet perché non ci sono cicli negativi comunque un grafo complesso avrebbe questo algoritmo un tempo di esecuzione intrattabile ma non intrattabile oggi nemmeno fra vent'anni nemmeno fra cento anni con computer anche mille volte più veloci perché stiamo parlando di una complessità che davvero è ingestibile quindi questo per dire che se il grafo ha cicli di costo negativo teoricamente potremmo ancora trovare dei cammini minimi a fatto che siano semplici ma praticamente no praticamente è un problema intrattabile e vabbè poi c'è un'altra proprietà sui labbero dei cammini minimi è il labbero che è indotto da tutti i vertici che si trovano lungo il cammino minimo quindi se noi consideriamo il cammino minimo e tutti i vertici che esso attraversa allora questo sottografo formato da questi vertici da questi archi siccome non torno mai nello stesso nodo più di una volta perché sono i cammini minimi non possono attraversare lo stesso nodo più di una volta per definizione allora questo è necessariamente un albero perché non c'è un albero appunto è un grafo che non ha cicli l'abbiamo detto l'ultima volta quindi considerato considerata la soluzione dei cammini minimi allora questa soluzione si può modellare tramite un albero cioè semplicemente il cammino minimo da una sorgente ad una destinazione in un grafo è un albero è un albero perché è un attraversamento di un grafo quindi una parte del grafo che però non contiene dei cicli quindi è un albero e lo chiamiamo albero dei cammini minimi bene altre proprietà che ci servono prima di andare negli algoritmi proprietà o definizioni vabbè sia dato un grafo orientato e pesato ormai abbiamo capito che questo è il contesto in cui in cui ci troviamo definiamo la distanza tra due vertici come il costo del cammino minimo che li connette o più infinito se non c'è alcun cammino minimo quindi la nostra distanza e la indicheremo con la d minuscolo è appunto il costo del cammino minimo che c'è tra i due nodi se esiste se non esiste diciamo che più infinito è la distanza tra un nodo e se stesso per definizione diciamo che è zero bene se noi definiamo così la nostra distanza allora è possibile in maniera simile a altri spazi per esempio altre metriche negli spazi euclidei è possibile definire una distanza una disuguaglianza triangolare a che serve la disuguaglianza triangolare se vi ricordate dai corsi di analisi si usano tantissimo le disuguaglianze triangolari nelle dimostrazioni quindi noi avere anche noi una disuguaglianza triangolare effettivamente ci porterà ad avere lo strumento principe per fare le dimostrazioni nei nostri grafi quindi abbiamo no la distanza la disuguaglianza triangolare sì perché è anche molto intuitiva si può dimostrare ovviamente in maniera più formale ma nel caso del grafo ci dice la disuguaglianza triangolare che dati due vertici x e z la distanza tra di loro è minore uguale tra la distanza tra x e y dove y vertice è intermedio sommata la distanza tra y e z per ogni tripla x y z che significa intuitivamente significa che se noi consideriamo x e z e consideriamo la sua distanza la loro distanza beh se consideriamo la loro distanza significa che esisterà un cammino minimo tra di loro per esempio indicato con questa percorso tratteggiato ora non sappiamo da quali nodi passa sappiamo semplicemente che è un cammino minimo per definizione di distanza bene se consideriamo un altro vertice che non fa parte di questo cammino minimo allora la distanza che c'è tra x e questo vertice intermedio e la distanza che c'è tra questo ventice intermedio e z la loro somma può essere al più uguale alla distanza tra x e y oppure maggiore al più uguale oppure maggiore perché perché se fosse minore si può dimostrare già adesso questo praticamente questo lemma per assurdo se fosse minore la somma di queste due distanze avremmo trovato un cammino minimo migliore di quello di prima e allora quello di prima non poteva essere un cammino minimo quindi abbiamo negato l'ipotesi e quindi per assurdo non può essere quello che abbiamo detto pertanto dato che il cammino che abbiamo prima detto essere minimo è tale se consideriamo un altro vertice che non fa parte di questo cammino minimo e le distanze rispettive da x e da z la loro somma può essere solo più lunga più lunga cioè immaginate di stare in una in una mappa geografica avete trovato la strada più breve poi avete trovato una strada alternativa che passa da un'altra città ora questa strada alternativa non può essere più breve della strada più breve altrimenti la strada più breve non era la più breve pertanto può essere solo uguale perché ci possono essere comunque cammini minimi multipli chi l'ha detto perché no non non è detto che sia unico il cammino minimo è solo quello più breve quindi ce ne possono essere due di uguale lunghezza ecco perché l'uguale se invece non ce ne sta più di uno se questo era unico beh allora questo cammino non può essere più breve quindi deve essere per forza maggiore la distanza tra x il vertice intermedio e il vertice intermedio y e z un corollario di questa disuguaglianza triangolare è praticamente una cosa una condizione chiamata di berman addirittura c'è un nome il corollario di un lemma che ha un nome significa che è una cosa molto importante in effetti è questa condizione che sta alla base di tutti gli algoritmi che vedremo da qui alla fine della parte sui grafi tra l'altro non solo della parte sui cammini minimi ma anche altre parti per esempio copertura alberi ricoprenti cosa che non copriamo scusate il gioco di parole in questo corso e flussi su flussi quindi capacità di reti flussi sulle reti di grafi e che pure non abbiamo tempo di trattare in questo corso e questi sono gli altri due argomenti che avrebbero un po chiuso la teoria dei grafi e comunque questa condizione alla base possiamo dire di tutta la teoria dei grafi che cosa ci dice questa condizione ci dice che presa una sorgente è un vertice intermedio per esempio però questo vertice intermedio non è un vertice qualsiasi è un vertice che precede immediatamente la nostra destinazione questa figura qui no preso un vertice di partenza poi preso un vertice intermedio che però procede immediatamente quello dove vogliamo arrivare allora vale la seguente disuguaglianza la seguente condizione di bellman la distanza tra la partenza e vertice intermedio di su sommata al peso dell'arco finale che mi porta alla destinazione è maggiore uguale della distanza tra s e v cioè sorgente destinazione questo per ogni arco del grafo uv per ogni scelta di u per ogni scelta di v per ogni scelta di s quindi è indipendente dalla situazione non è che è un caso particolare in tutti i casi vale questo intuitivamente che significa significa che se noi stiamo considerando tre vertici siffatti una sorgente un arrivo è il vertice che immediatamente un vertice che non detto che ce ne sia solo uno uno dei vertici che mi portano direttamente all'arrivo direttamente cioè che precedono l'arrivo allora questa disuguaglianza mi dice che la distanza che c'è tra s e u sommata all'arco è maggiore uguale della distanza che c'è tra s e v cioè che il cammino minimo che mi porta da s a u più il costo dell'arco che mi porta poi finalmente alla destinazione sono comunque maggiori uguali del cammino minimo da s a v beh è ovvio è una conseguenza della disuguaglianza triangolare cioè se io so che esiste un cammino da s a v e questo cammino potrebbe essere diverso da quello che sto adesso percorrendo essendo quello minimo se adesso io faccio un'altra strada ovvero vado a u e poi da u vado a v con l'arco il costo di questo cammino può essere sia uguale a quello minimo anzi se è uguale significa che questo è un cammino minimo se invece è maggiore significa che questo è un cammino non minimo quindi la dimostrazione qui presente è praticamente la versione formale di quello che ho appena detto e si usa ovviamente la disuguaglianza triangolare quindi cerchiamo però di capire questa questa condizione la riutilizzeremo ovviamente quando parleremo degli algoritmi quindi la riesumeremo stesso oggi nella lezione di oggi dati un vertice di partenza un vertice di arrivo perché dico sempre a vertici di partenza e di arrivo perché i cammini minimi questo fanno trovano la distanza più breve tra un vertice di partenza e un vertice di arrivo ora dalla partenza all'arrivo ci posso arrivare in tanti modi in tanti cammini supponiamo già di conoscere un cammino minimo supponiamo di conoscere un cammino che per noi è minimo ecco questo è interessante perché vi può già anticipare quali saranno gli algoritmi quindi supponiamo di conoscere un cammino che noi pensiamo essere minimo abbiamo adesso trovato un altro cammino che passa da u e poi ci va tramite v tramite un arco adesso supponiamo di aver trovato una somma di questa distanza e ovviamente dell'arco uv che nega questa condizione quindi minore della distanza tra s v se abbiamo trovato una cosa del genere che cosa significa significa che quello che noi pensavamo essere un cammino minimo in realtà non lo era e quindi abbiamo trovato un percorso più breve e indovinate un po è proprio così che tutti gli algoritmi che vedremo funzionano iniziano da stime per eccesso quindi non delle di piccole delle di grandi cioè la nostra stima tra s v inizialmente più infinito mano a mano che trovo dei percorsi più convenienti all'inizio ovviamente qualunque percorso è più conveniente di più infinito quindi il primo percorso che troverò dirò che sarà per me quello buono ma ogni volta quindi esplorando il grafo ogni volta che trovo un percorso più breve significa negare questa condizione quindi trovo i punti del grafo in cui questa condizione non si verifica se non si verifica significa che ho trovato un buon un migliore cammino quindi aggiorno la mia struttura che mantiene tutti i cammini minimi e mano a mano questa cosa va avanti finché finché io spero che le di grandi convergano quindi che l'algoritmo abbia una sua convergenza verso le di piccole le distanze vere quindi tutti gli algoritmi sono così il problema è come si esplora il grafo quante volte si esplorano i nodi e gli archi perché non è detto in effetti proprio così non basta una unica esplorazione del grafo quindi m più n m numero di archi n numero di nodi non basta una visita del grafo per trovare cammini magari bastasse in realtà c'è un caso in cui basta è un caso molto specifico è un caso in cui i grafi non hanno cicli quindi quando i grafi non hanno cicli effettivamente si può dimostrare lo dimostreremo che basta una visita del grafo per quindi o più di odm più n per trovare i cammini minimi ma in generale i grafi hanno i cicli una mappa stradale certo che c'è i cicli una rete di internet ha ovviamente i cicli le configurazioni del pacman il labirinto del pacman ai cicli le configurazioni del cubo di rubic hanno i cicli in generale ragazzi è difficile trovare un grafo che non abbia cicli anche perché se così fosse beh sarebbe un albero non un grafo ok quindi è un po raro però può succedere se succede allora noi diciamo che ci basta una visita se non succede dobbiamo andare a vedere appunto come esplorare questi nodi e questi archi e se il grafo non ha delle particolarità ovvero è semplice semplicemente un grafo senza cicli di costo negativo perché altrimenti non potremmo proprio riuscirci come abbiamo appena detto però non ci sono delle particolari ulteriori proprietà allora dovremmo usare un algoritmo che spero vedremo oggi di bernam e ford che ci dice ha una complessità m per n quindi archi numero di archi per numero di nodi se in più diciamo che i nostri grafi non hanno archi di costo diverso da cicli e cioè è una condizione più forte proprio non ci stanno i costi negativi quali sono questi grafi e per esempio quelli stradali quelli di internet quindi sono casi reali e in effetti da extra e l'algoritmo forse più utilizzato in generale per per i nostri per risolvere i problemi sui grafi in questo caso si può dimostrare lo dimostreremo che la complessità e ho di m più n logaritmo di n che è molto minore di m per n insomma si dovrebbe vedere a occhio comunque m nel caso peggiore n quadro n quadro per n n cubo questo sarebbe n quadro più n per il logaritmo di n quindi questo non è n quadro n log n è molto più piccolo di n quadro l'abbiamo fatto questo quando abbiamo parlato di ordinamento abbiamo visto che il bulb sort e insertion e selection sort che hanno n quadro praticamente ci mettono i secoli invece il nostro merge sort o quick sort che è n log n ci mette secondi quindi è molto molto più piccolo n log n rispetto a n quadro qui abbiamo una specie di n quadro più n log n quindi nel caso peggiore in cui m si è uguale ad n quadro questo termine è minore diventa o di n quadro ok quindi ovviamente è molto più conveniente di belman ford poi ci sono gli algoritmi che calcolano i cammini minimi non tra una sorgente e una destinazione ma tra tutte le possibili coppie del nostro grafo per esempio un caso in cui questo è utile e quando il nostro grafo è piccolo quindi se è piccolo ci conviene precalcolare tutti i cammini minimi quelli tra tutte le possibili coppie e per fare questo c'è un algoritmo che sarà l'ultimo algoritmo che vedremo in questo corso di floyd e walshaw che impiega o di n cubo che uno pensa essere in effetti è più complesso di ben manford ma attenzione ben manford è tra una coppia di vertici quindi per implementarlo poi tra tutte le coppie qua ci vuole sicuramente una moltiplicazione per n e farebbe n quadro n alla quarta non n cubo in quali casi è utile o il floyd e walshaw per esempio nel pacman perché nel pacman il grafo del pacman è piccolo e piuttosto che runtime durante il gioco andarsi a calcolare i cammini minimi del fantasmino in quella posizione verso pacman in quella posizione tra l'altro per tutti e quattro i fantasmini siccome i fantasmini si muovono e pacman si muove è molto più conveniente precalcolare prima che il gioco pure inizia tutti i cammini minimi tra tutte le coppie tanto quanti nodi cia pacman 60 e vabbè lo calcoliamo quanto ci metterà un secondo due secondi questi due secondi noi li usiamo all'inizio del gioco e poi ci ritroviamo già tutti i cammini minimi calcolati quindi è come se utile il floyd e walshaw è utilissimo se siamo addirittura in una rete di calcolatori molto piccola che non ha tutta questa dinamicità quindi una rete praticamente che non cambia beh ci converrebbe usare questo piuttosto che da extra in verità però da extra si usa di più perché le reti di calcolatori sono sono comunque dinamiche ok hanno costi che cambiano nel tempo e quindi bisogna ricalcolare molto spesso le cose allora conviene farlo con un algoritmo più più leggero tutti gli algoritmi che vedremo utilizzano questa condizione questa condizione di berman è anche detta condizione di rilassamento tecnica di rilassamento perché è appunto quello che vi ho detto prima si parte da stime per eccesso delle distanze quindi di grandi che ovviamente saranno più grandi se lo stime per eccesso delle vere distanze e mano a mano che troviamo dei percorsi più convenienti decrementiamo questo di grande sperando che alla fine l'algoritmo converga verso il di piccolo quindi nei nostri algoritmi apparirà questa condizione sempre la vedremo sempre questa condizione cioè abbiamo scoperto che per andare da x a y si può passare da un nodo v e quindi passare poi da quindi la distanza tra x a v più il costo del cammino da v a y quindi abbiamo scoperto un un cammino diverso magari da quello che pensavamo prima perché la distanza di questo cammino il costo di questo cammino quindi la distanza totale tra x a v e il costo del cammino da v a y scusate è più piccola della distanza che noi pensavamo prima tra x a y cioè abbiamo scoperto un cammino più breve beh se l'abbiamo scoperto allora diciamo che la nuova distanza tra x a y è proprio la distanza nuova scoperta quindi questa condizione qui è onnipresente negli algoritmi in generale di cammini minimi sui grafi o algoritmi che comunque considerano i costi i costi dei cammini quindi questa è una violazione della disuguaglianza triangolare con conseguente aggiornamento della distanza che è una distanza una stima per eccesso che speriamo converga alla distanza vera quindi in cosa si differenzieranno gli algoritmi si differenzieranno nel quanti passi di rilassamento fanno perché più passi fanno e più ovviamente la complessità aumenta ok però facciamo un passo indietro adesso supponiamo o meglio un passo avanti supponiamo di aver già calcolato tutte le distanze le distanze tra tutte le coppie non è importante supponiamo di avere in qualche modo o abbiamo usato flood wash allo abbiamo usato gli altri non mi interessa cosa abbiamo usato però supponiamo di avere le distanze quindi abbiamo oltre al grafo abbiamo un di dove questo di è una matrice è la matrice di tutte le distanze tra tutte le coppie di vertici quindi i vertici sono n di una matrice n per n n quadro elementi ogni elemento la distanza tra il nodo di quella riga e il nodo di quella colonna vogliamo sapere e in effetti questo è quello che fa il fantasmino nel pacman cioè qualcuno ha già calcolato tutte le distanze relative ai cammini minimi tra tutte le possibili coppie del grafo abbiamo fatto all'inizio del gioco adesso durante il gioco x io sono il fantasmino y è il nodo dove si trova pacman qual è il cammino minimo per andare da x a y date conosciute precalcolate le distanze allora l'algoritmo un possibile algoritmo è il seguente ed è molto semplice come complessità data è facile dimostrare ma realtà l'abbiamo discusso 15 minuti fa se se un arco appartiene un cammino minimo data la proprietà di sottostruttura ottima dei cammini minimi deve valere la disuguaglianza triangolare con l'uguale perché deve perché se abbiamo trovato un arco uv che appartiene un cammino minimo significa che per arrivare a u da s quindi di s u più questo arco che fa parte del cammino minimo tutto questo è un cammino minimo perché questo è un cammino minimo l'arco fa parte di un cammino minimo allora la loro somma deve essere per forza un cammino minimo quindi abbiamo applicato in maniera inversa la proprietà di sottostruttura ottima di un cammino minimo quindi se questo è un cammino minimo allora la distanza che va da s a v è esattamente questa quindi vale l'uguale e allora sfruttando questo ulteriore colorario della disuguaglianza triangolare e della sottostruttura ottima dei cammini minimi possiamo facilmente costruire il cammino minimo date le distanze tra tutte le coppie come beh partiamo dall'arrivo quindi vedete partiamo dal nodo v pari alla destinazione quindi costruiamo il cammino minimo a ritroso a partire dall'arrivo dalla destinazione quindi il nostro cammino minimo inizialmente ha soltanto il nodo finale la destinazione e finché il nodo non è quello iniziale quindi costruendo ritroso questo cammino ci fermeremo quando saremo arrivati alla partenza quando ci siamo ricongiunti alla partenza diciamo per ogni arco uv in g che sarebbe questo arco sarebbe per ogni arco incidente su v perché dobbiamo andare all'inverso quindi partire andare verso la destina verso la sorgente quindi per ogni arco uv se vale la disuguaglianza triangolare con il segno uguale significa che questo arco di uv tra tutti gli archi che incidono su v è l'arco che fa parte del cammino minimo quindi se fa parte del cammino minimo beh allora noi aggiungiamo alla nostra lista la lista dei cammini minimi facciamo un push front aggiungiamo a sinistra aggiungiamo u come primo vertice di pi greco del cammino e adesso il nostro nodo diventa quello che abbiamo trovato e quindi vedete ci muoviamo praticamente a ritroso alla prossima operazione andremo a considerare tutti gli archi incidenti su quel nuovo nodo che abbiamo trovato prenderemo quello per cui è verificata la disuguaglianza triangolare con il segno uguale e diremo che quello di nuovo è un nodo del nostro cammino minimo lo metteremo con push front nella nostra lista e alla fine prima o poi prima o poi perché perché se sono connessi x e y gioco forza io con questo approccio arriverò prima o poi a x e ci arriverò percorrendo un cammino minimo qui l'algoritmo è davvero semplice parti dalla destinazione considera tutti gli archi incidenti e per ciascuno di questi archi incidenti verifica la disuguaglianza triangolare se la verifichi con il segno uguale stai sulla strada giusta sulla buona strada quindi spostati adesso sul nodo che appena trovato e fai questa cosa iterativamente finché non arrivi al nodo di partenza ovviamente perché c'è questo break perché se hai trovato il costo se hai trovato un arco del cammino minimo non serve andare adesso a sì come no queste sono chiamate insomma pubblicitarie non serve andare a verificare gli altri archi incidenti su v hai trovato l'arco buono break quindi esci da questo ciclo e continua ad andare alla ricerca del nodo precedente nel cammino minimo allora qual è la complessità intanto diciamo supponiamo che il nostro cammino minimo abbia lunghezza k beh certo nel caso peggiore un cammino minimo attraversa tutti i nodi di un grafo e però insomma caso peggiore sì ma nel caso pratico in una mappa stradale non è che noi attraversiamo tutti i nodi d'europa cioè tutti gli incroci di tutta europa per arrivare da qui a roma ovviamente no quindi k in generale è molto minore di n ok questo non vale solo per le reti stradali ma per tutti grafi poi diciamo k ecco perché diciamo k e non diciamo n perché in generale k è molto minore di n allora il costo è beh intanto ci serve la procedura archi incidenti e quindi qui vedete dobbiamo tornare alle nostre rappresentazioni e ci serve la procedura archi incidenti e quindi questo termina anche la scelta della nostra struttura la procedura archi incidenti e grado di v quindi se usiamo la lista di incidenza scusate la lista di licenza o la lista di incidenza la nostra il costo di sapere quali sono gli archi che incidono sul nodo è il grado di quel modo tra l'altro se è il grafo è di tipo orientato è proprio ci sono gli archi in prante gli archi uscenti quindi c'è anche quest'ultima distinzione se il grafo orientato però sempre grado è il costo è sempre pari al grado grado in ingresso in questo caso però sempre di gradi si sta parlando quindi la procedura archi incidenti nel caso di grafi orientati ha una complessità pari agli archi incidenti appunto gli archi che entrano in ingresso in in quel in quel modo quindi noi dobbiamo per ognuno dei vertici del cammino quindi per ognuno dei k quindi questo ciclo è lungo k in ogni interazione consideriamo gli archi incidenti quindi o di grado entrante di quel nodo e poi facciamo un confronto con una if è uno di uno è un push front è uno di uno quindi o di uno per grado per k quindi o di grado per k quindi questa è la nostra complessità ovviamente anche qui nei casi peggiori il grado entrante in un nodo potrebbe essere n cioè tutti i nodi hanno un arco verso quel nodo ma ci credo poco o in un caso pratico che sia così quindi va bene caso peggiore o di n per k però in generale ragazzi o di grado di ingresso è piccolo in una rete stradale quante altre strade sono entranti nel nostro snodo nel nostro numero civico o nel nostro incrocio 456 insomma già difficile pensare di più quante grande quanto è lungo il nostro cammino minimo e beh lungo è lungo quello che lungo ma del resto meglio non si può fare no quindi che la mia complessità sia proporzionale al numero di nodi del cammino meglio di così non si può fare in effetti questo è un algoritmo che si può dimostrare essere ottimo cioè meno di così non si può proprio davvero in impiegare e in effetti è un algoritmo molto veloce pensate nel pacman avremo un delta in che sarà massimo 4 è un k che sarà dipende dal numero di nodi del grafo però può essere al massimo 60 con i 60 per 4 240 240 passi di calcolo immaginate un po il calcolatore se li beve praticamente quindi un algoritmo che impiega 240 confronti o push front e push front quindi precisamente sarebbero 240 confronti somme e poi push front quindi 240 per 3 stiamo parlando comunque di meno di mille operazioni elementari nel nostro algoritmo quindi molto molto veloce in effetti questa cosa funziona anche in real time anche 60 frame al secondo possiamo permetterci di 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 utilizzare un algoritmo si fatto bene quindi questo era l'algoritmo che praticamente useremo sempre una volta nota la distanza le distanze tra tutte le 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 coppie di nodi eh perché sono state calcolate o con fluid washall o applicando gli altri algoritmi a coppie poi diremo un giorno quando ci arriveremo quale conviene fare cosa conviene fare quando conviene usare un algoritmo quando conviene usare un altro eh allora avremo abbiamo un algoritmo che date le distanze ci consente di trovare il cammino minimo il uno tra una sorgente e una destinazione ok allora è il momento di iniziare a parlare di questi algoritmi e questo quello di ben manford che vi presento oggi è quello più generale quindi quando uno proprio non sa esattamente cosa fare non sa non conosce bene il suo grafo non sa che ipotesi poter fare allora questo è l'algoritmo che fa per lui o per lei quindi l'algoritmo più generale allora l'algoritmo di ben manford trova un cammino minimo assorgente singola su un qualunque grafo senza cicli di costo negativo perché ovviamente questa cosa si poteva anche non specificare però è meglio ricordare che quando ci sono cicli negativi noi non possiamo proprio risolverlo a questo problema quindi in maniera un po pedante diciamo sempre attenzione grafo senza cicli di costo negativo ma anche se noi togliessimo questa definizione questa proprietà comunque se abbiamo un grafo con quelle proprietà non ci sono altri algoritmi che riescono a risolvere quindi sono proprio irrisolvibili ok il costo di questo algoritmo è m per n e lo andiamo a dimostrare allora l'algoritmo di ben manford ragiona il ragionamento è di tipo ottimistico un po come la ricorsione no si ragiona in maniera molto ottimistica all'inizio e poi si vede che cosa succede applicando quel ragionamento quindi consideriamo il cammino minimo ignoto tra la sorgente e una destinazione quindi v di k s v di k sta per la lunghezza del cammino minimo quindi questo cammino minimo per noi sarà s v di uno v di due fino a v di k meno uno v di k quindi ho numerato i vertici in funzione della loro posizione nel cammino minimo quindi guardate supponiamo di conoscerlo già praticamente quello che dovremo calcolare quindi capisco che è molto ottimistico e realistico però è così che aiuta a ragionare in base alla condizione di bellman quella che abbiamo poi usato nella costruzione dei cammini minimi sappiamo che se io applico la condizione lungo questo cammino data una qualunque coppia di vertici in questo cammino varrà sempre la disguaglianza con il segno uguale per definizione di cammino minimo per proprietà sotto struttura ottima e per corollario del disguaglianza triangolare che si chiama appunto condizione di bellman quindi per tutte quelle cose che poi abbiamo usato per l'algoritmo che calcola il cammino minimo allora se stiamo in una qualunque coppia di questo cammino deve valere in particolare anche per la coppia finale deve valere che la distanza che vada a s alla fine all'ultimo vertice è pari alla distanza che vada a s al penultimo più il costo dell'arco che vada al penultimo all'ultimo k meno uno k questo è sicuramente vero allora se noi adesso consideriamo delle stime delle stime per eccesso che sono pari a zero se lo stesso nodo è più infinito se sono nodi diversi insomma quello che abbiamo detto prima no sono stime ovviamente che noi dovremmo andare a ritoccare se eseguiamo i passi di rilassamento nel seguente ordine che significa i passi di rilassamento i passi di rilassamento sono quelli in cui diciamo di aver trovato una strada migliore e quindi aggiorniamo la nostra strada attuale x y tramite la strada tra x e il nodo intermedio più il costo del percorso che mi porta da quel nodo intermedio al nodo finale ora però guardate che succede succede una cosa particolare e quindi eseguiamo i passi di rilassamento in questo ordine la distanza che c'è tra s e il primo nodo di questo cammino minimo sarà pari a distanza che c'è tra s ed s cioè praticamente che non sono ancora partito più il costo tra s e v1 quindi questo beh sì se s v1 inizializzato più infinito ovviamente questa cosa sarà minore quindi questo è un passo di rilassamento la stessa cosa per s v2 s v3 s vk quindi tutte queste distanze che inizialmente sono pari a più infinito è vero che io troverò una strada migliore qualunque strada è migliore di più infinito quindi è vero che io eseguirò questi rilassamenti quindi per andare a v3 mi conviene ovviamente rispetto a più infinito passare da v2 e poi metterci l'arco da v2 a v3 in particolare accadrà anche che prima poi ecco perché vi dico supponiamo di conoscerlo ma in realtà non lo conosciamo supponiamo di conoscerlo se è così arriverà a un certo punto in cui io farò questo rilassamento ora questo rilassamento non è un rilassamento qualsiasi ma è il rilassamento che si trova lungo un cammino minimo cioè voglio dire che facendo questi rilassamenti prima o poi io becco un arco che fa parte di un cammino minimo quindi in questo caso ma anche in tutti gli altri casi perché adesso questo si può percorrere a ritroso come un po abbiamo fatto per il l'algoritmo che abbiamo visto prima questo arco fa parte di un cammino minimo allora questo rilassamento che abbiamo visto qui è il il rilassamento giusto da fare se questo è quello giusto allora anche il penultimo è giusto perché nel penultimo noi consideriamo l'arco che va da k meno 2 a k meno 1 ma anche quello è un arco che fa parte del cammino minimo cioè cosa sto dicendo sto dicendo che se noi eseguissimo i passi rilassamento lungo gli archi che fanno parte del cammino minimo ignoto praticamente in k passi i nostri di grandi saranno praticamente pari ai di piccoli cioè avremmo trovato la nostra il nostro la nostra di piccola che la distanza che va da s a tutti i nodi praticamente che si trovano lungo questo cammino in particolare al nodo di destinazione quindi ripeto se se noi supponessimo se noi conoscessimo il cammino minimo ed eseguissimo i passi di rilassamento dalla sorgente lungo il cammino quindi ci spostassimo lungo quel cammino allora i nostri aggiornamenti sarebbero gli aggiornamenti giusti delle nostre di grandi e quindi in soli k passi arriveremo ad avere risolto il problema voi dite ma questo è un ragionamento del cavolo perché stai dicendo che se tu hai la soluzione aggiorni le di grandi muovendoti lungo questo cammino della soluzione e allora le tue di grandi diventano le di piccole e dici che hai risolto il problema e grazie al cavolo che l'hai risolto l'hai risolto perché conoscevi la soluzione e però attenzione qual è l'idea l'idea è che è vero che io non conosco quindi vedete adesso non conosco dobbiamo comunque adesso rimuovere quest'ipotesi non conosco il cammino minimo però so che l'ultimo arco l'arco vk meno uno vk è sicuramente uno di questi perché sicuramente uno di questi scusate se noi proviamo a rilassare tutti gli archi cioè se il cammino minimo passa da archi del grafo se noi proviamo a fare questi passi di rilassamento su tutti gli archi del grafo prima o poi includeremo l'arco vk meno uno vk cioè è vero che questo è un arco del cammino minimo che non conosciamo ma è anche vero che questo è un arco del grafo quindi se noi li rilassiamo tutti cioè se facciamo questa operazione il passo di rilassamento per tutti gli archi del grafo prima o poi becchiamo esattamente il vk meno uno vk e quando lo becchiamo significa che noi questo passo di rilassamento giusto che ci fa sperare di arrivare alla di piccola l'abbiamo messo nella nostra saccoccia quindi cosa ci rimane da fare ci rimane da fare tutti gli altri ma di nuovo se abbiamo se facciamo un'altra iterazione in cui rilassiamo tutti gli archi prima o poi arriveremo ad una condizione in cui avremo l'arco vk meno due vk quindi in quel caso abbiamo di nuovo trovato il passo di rilassamento giusto quindi qual è l'idea ragazzi un'idea veramente l'idea è semplice forse per capirlo ci vuole più tempo però l'idea davvero è semplice lo rimostra anche l'implementazione di tre righe in realtà e che una prima passata di tutti gli archi ci mette al sicuro sul fatto che noi avremo rilassato l'ultimo arco del cammino minimo siccome il cammino minimo potrebbe nel caso peggiore essere lungo k uguale a n cioè attraversare tutti i nodi se noi facciamo n di queste passate siamo sicuri che avremo rilassato tutti gli archi prima o poi nel modo corretto quindi in una prima passata sicuramente rilassiamo l'ultimo arco in una seconda il penultimo eccetera eccetera quindi in un ciclo di n passate all'interno di questo ciclo c'è un ciclo su m archi e all'interno c'è il passo di rilassamento quindi la complessità è odm per n quindi ripetendo rilassamento su tutti gli archi avremo per n passate sicuramente che le nostre distanze grandi finalmente saranno pari alle distanze piccole ok non so se questa cosa è chiara anche perché penso che la lezione ci conviene finirla qui e quindi se avete delle domande questo è il momento di farle su questo algoritmo e lo riprenderemo domani domani no domani non c'è lezione mercoledì perché mi piacerebbe utilizzare questo algoritmo anche per un altro scopo che ha a che fare con i grafi di ciclo di costo con cicli di costo negativo questo lo vedremo mercoledì quindi comunque continueremo a parlare di questo algoritmo anche mercoledì però se avete domande questo è il momento di farle n nel ciclo che numero è? mi sono perso è il numero di nodi n il numero di nodi perché noi non sappiamo esattamente quanto è lungo questo cammino minimo nel caso peggiore k la lunghezza del cammino minimo potrebbe essere n cioè il cammino potrebbe attraversare tutti i nodi mi rendo conto che nel caso pratico è brutto in effetti se abbiamo una rete stradale non useremo bermanford perché bermanford va a rilassare tutti gli archi quindi tutte le strade per tutti i nodi quindi per tutti gli incroci per tutte le città della nostra rete stradale quindi utilizzare bermanford nel navigatore satellitare ma è impossibile io non ci credo che ovviamente so che il navigatore satellitare non usa bermanford bermanford si usa si usa quando non c'è alternativa per esempio vedremo che se il grafo ha costi negativi non posso usare da extra non posso usare topologico perché potrebbe avere dei cicli devo usare bermanford cioè ci sono dei casi in cui per forza devo usare bermanford ovviamente data l'elevata elevatissima complessità mi auguro che che il grafo non sia troppo grande se è troppo grande pazienza è l'unico modo per farlo va bene ok intanto interrompo la registrazione